Lo dicevo al coach a De Nicolao prima della partita, questa è una squadra che gioca molto bene, gli ho fatto i complimenti. È una squadra che ha messo in difficoltà moltissime squadre avversarie con questa tipologia di gioco. Altro tutto ci sono quintetti fisicamente molto forti, pronti a cambiare, pronti a difendere anche bene. Magari sulla profondità fanno più fatica, quindi era importante per noi rimanere sempre in partita, ma devo dire che la capacità che abbiamo avuto di prendere quell'ultimo vantaggio nel quarto quarto è stato poi quello che ha deciso il match e in fondo abbiamo gestito. Non abbiamo certo fatto una grandissima prestazione, però oggi era importante vincere quando un campionato riparte dopo la Coppa, sebbene noi sabato abbiamo giocato una partita ufficiale, però la prima partita dopo la sosta non è mai una partita semplice.